Buonasera Ma questo è cretino o no? Ma questo qua è cretino o no? Buonasera Ma che cosa? Perché il comunismo è libertà secondo te? Il comunismo è una cosa libera? Questo è pazzo Allora stanno circolando Forse tra di noi delle immagini Non so se le ha pubblicate sull'internet Delle immagini di Parenzo Che pratica lo squatting Su tiktok Ci sei fatto anche male Mi dicono No 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 Mi fa male la schiena Ti fa male la schiena Ti fa male per fare squatting Lo fa con buona tecnica Perché ha il culo a martello Secondo me no E anche il brasiliano non è d'accordo A parte che queste gambette Sembra un fenicottero rosa Ditegli a Parenzo Che l'unico esercizio che è fatto male Si rimane paralizzato allo squat Mi raccomando Diteglielo Mamma non sei poco Giù Vomito basso Bravo Giù Ottimo Quello che ha pure detto va bene così Ma che va bene così Busto troppo in avanti Ginocchia troppo larghe Punte dei piedi troppo larghi Deve stringere le punte dei piedi Cura all'infuori Quando sale deve spingere con i talloni E ovviamente lo dovrebbe fare al multipower Il multipower sarebbe Quel macchinario guidato Questo io lo sto a far far libero E non capisce un cazzo Certo Fisico ci vuole Ma che cazzo Mammoletta che sei Ma che se vuoi far male Qua 40 anni Vuole iniziare a farsi male E dai su Ragazzi Fermo 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 Devo chiamare Acerbo Che è il segretario di riportazione comunista Che ha il covid Il quale ha detto Io le chiederei